Una famiglia Finalmente avevo occasione di rivedere l'amico Simone Badeven, che non avevo più incontrato da quindici anni. In altri tempi era stato il migliore dei miei amici, quello del cuore, il compagno con cui passare lunghe serate tranquille e allegre, quello a cui si confidano le cose più intime, a cui si riservano conversando le idee rare, fini, ingegnose, delicate, le idee che nascono da quella stessa simpatia che eccita l'animo e lo mette a suo agio. Per diversi anni non c'eravamo mai lasciati. Avevamo vissuto, viaggiato, pensato, fantasticato insieme, amato le stesse cose di uno stesso amore, ammirato gli stessi libri, apprezzato le stesse opere, provato le medesime sensazioni e così spesso riso delle stesse persone al punto che ci bastava scambiarci un'occhiata per capirci alla perfezione. Poi si era sposato. Sare unito a una ragazza di provincia venuta a cercare marito a Parigi. E in che modo aveva potuto accallappiare quel ragazzo intelligente e avveduto una ragazzetta come lei, biondiccia, secca secca, dalle mani rozze, dagli occhi cerulei senza espressione, dalla voce in colore perfettamente uguale ad altre centomila bambole da marito. E chi lo può spiegare? Senza dubbio lui aveva posto le sue speranze in una semplice felicità, dolce e lunga tra le braccia di una donna tenera e fedele, e aveva intravisto queste promesse nello sguardo trasparente di quella slavata fanciulla. Non aveva pensato che un uomo attivo, vivace, sveglio, si stanca di tutto non appena afferrato il senso della stupida realtà, a meno che non si abbruttisca sino al punto da non capire più niente. Come l'avrei trovato? Sempre vivace, spiritoso, pronto al riso e all'entusiasmo, oppure addormentato dalla vita di provincia? In quindici anni un uomo può mutare. Il treno si fermò in una piccola stazione. Mentre mi preparavo a scendere dal vagone, un uomo grasso, molto grasso, dalle guance rosse e la pancia prominente, si slanciò verso di me a braccia aperte, gridando «George!». L'abbracciai, ma non l'avevo riconosciuto. Poi, meravigliato, gli sussurrai «Verbacco! Non sei affatto dimagrito!». Rise e mi rispose «Che vuoi? La vita tranquilla, la buona tavola, le notti placide. Mangio e dormo tutta la mia vita». Mi mise a osservarlo, cercando di ritrovare in quella larga figura i lineamenti che avevo amato. Soltanto gli occhi non erano cambiati, ma non ritrovai più il suo sguardo e mi chiesi «Sai, è vero che lo sguardo è il riflesso del pensiero. I suoi pensieri non sono più quelli di una volta, quelli che conoscevo tanto bene. E tuttavia i suoi occhi brillavano ancora, pieni di gioia e di amicizia. Ma non avevano più quella luce di intelligenza che testimonia, al pari della parola, la qualità dello spirito». All'improvviso Simon mi disse «Ecco i due più grandi, una ragazzina di quattordici anni, già quasi donna, e un ragazzo di tredici in divisa di collegiale. Si fecero avanti, un po' impacciati e timidi. Chiesi a bassa voce «Sono figli tuoi?». Lui rispose ridendo «Ma sì! Quanti ne hai?». «Cinque. Tre sono rimasti a casa». Aveva risposto con fierezza, quasi trionfante. Io mi sentivo preso da profonda pietà, mista a un vago senso di disprezzo per questo fecondatore e orgoglioso e schietto, che passava le nottate a far figli nella sua casa di provincia, proprio come un coniglio in gabbia. Salì su una vettura che guidava lui personalmente e attraversammo il paese, a un triste paese assonnato e scialbo, dalle strade deserte, animate solo da qualche cane e da due o tre donnicciole. Ogni tanto qualche bottegaio dalla porta di un negozio si toglieva il berretto e Simon restituiva il saluto e mi diceva il suo nome, di certo per dimostrarmi di conoscere ogni abitante col proprio nome. Ebbe il sospetto che pensasse di candidarsi, secondo il sogno di tutti coloro che si seppelliscono in provincia. Dopo aver attraversato in fretta il paesotto, la vettura si fermò in un giardino, con qualche pretesa di parco, davanti a una casa con le torricelle che cercava di gabellarsi per un castelletto. In attesa di un complimento, Simon mi disse «Ecco il mio bugigattolo». Risposi «È delizioso». Dal portone fece la sua comparsa una signora abbigliata e acconciata per ricevere la mia visita e disse tutte le frasi di circostanza che si possono dire in queste occasioni. Non era più la ragazzetta bionda e insipida che avevo veduto in chiesa quindici anni prima, ma una grande signora piena di falpalà e di ricciolini, una di quelle signore senza età, senza carattere, senza eleganza, senza spirito, senza niente di quello che è l'essenza di una donna. Era una madre, insomma, una grassa mamma del tipo comune, la gallina da uova, la fattrice umana, la macchina di carne che procrea, senza altre preoccupazioni nell'anima, tranne i figliuoli e il libro di cucina. Mi dette dunque il benvenuto, ed entrai nel vestibolo, dove tre marmocchi allineati in ordine di statura sembravano messi lì per una rivista come pompieri davanti al sindaco. «Ah, ecco gli altri», dissi. Radioso Simon li presentò. Jean, Sophie e Gontran. La porta del salotto era sparancata. Entrai e in fondo a una poltrona scorsi qualche cosa che tremolava. Un uomo, un vecchio paralizzato. La signora Radevan si fece avanti. «E' mio nonno, signore, ha ottantasette anni». Poi andò a urlare all'orecchio del vegliardo gelatinoso. «È un amico di Simon, papà! È un amico di Simon, papà!» L'avo fece uno sforzo per riuscire a dirmi buongiorno e pagì, se, se, agitando una mano. Risposi, «Troppo gentile, signore, e mi buttai su una sedia». Simon era entrato e rideva. «Hai conosciuto il nostro caro nonnino. È il divertimento dei bambini. È goloso, goloso da rischiare la morte a ogni pasto. Non puoi immaginare cosa sarebbe capace di mangiare se lo lasciassimo fare. Ma lo vedi, lo vedrai. Fa l'occhietto ai dolci come se fossero signorine. Non c'è niente di più divertente. Tra poco lo vedrai». Mi condussero poi nella stanza che mi avevano destinato, perché potessi prepararmi, dato che si avvicinava l'ora del pranzo. Sentendo un gran scalpitio sulle scale, mi voltai. I bambini mi seguivano in processione, dietro il babbo, di certo con l'intenzione di farmi onore. La mia camera dava sulla campagna. Una campagna piatta, sconfinata, interamente nuda. Un oceano di erba, di grano, di avena, senza un ciuffo d'alberi né una collinetta. L'immagine eloquente e malinconica della vita che si faceva in quella casa. Suonò una campana, segnale del pranzo. Dicesi. La signorina Radevin prese il mio braccio, come se si dovesse andare a una cerimonia, e passammo in sala da pranzo. Un domestico spingeva la poltrona del vecchietto. Questi, appena sistemato vicino alla tavola, buttò sulle vivande uno sguardo avido e curioso, volgendo stentatamente da un piatto all'altro la testa tremolante. Allora Simon si fregò le mani. Ti divertirai, mi disse. E i ragazzi, avendo capito che stavano per offrirmi lo spettacolo del nonno goloso, si misero a ridere tutti insieme, mentre la madre si limitava a sorridere alzando le spalle. Radevin cominciò a urlare al vecchio, unendo le mani a formare un alto parlante. Questa sera c'è il budino di riso! La faccia rugosa del lavo si illuminò, e tremolò più forte, dall'alto in basso, per indicare che aveva capito e che era contento, e tutti scoppiarono a ridere. Guarda, mormorò Simon, al nonno non piaceva la minestra, e si rifiutava di mangiarla. Per il suo bene, allora, gli usavano violenza. Il domestico gli ficchiava in bocca a forza il cucchiaio pieno, mentre il vecchio sbuffava con quanta forza gli era rimasta, per evitare di mandar giù il brodo, che in questo momento veniva spruzzato sulla tavola e sui vicini. I bambini si torcevano dalle risa, e il babbo ripeteva gongolando, «Aspassoso, vero, il vecchietto!» Durante tutto il lungo pasto, il nonno fu oggetto dell'attenzione generale. Divorava, solo guardandoli, tutti i cibi messi in tavola, e tentava di afferrarli con le mani convulsamente agitate. Gli alimettevano quasi a portata di mano, per vedere gli inutili sforzi, l'invocazione desolata di tutto il suo essere, degli occhi, della bocca, del naso che li odorava. Il nonno sbavava di voglia sul tovagliuolo, emettendo brontolini articolati, e tutta la famiglia si godeva, quel supplizio odioso e grottesco. Poi gli mettevano nel piatto un pezzettino, che lui mangiava con febbrile avidità, nella speranza che presto gli fosse data qualche altra cosa. Quando fu portato il budino di riso, ebbe quasi una convulsione, mugulava dal desiderio. Contran gli urlò, «Per voi niente, avete già sbaffato troppo!» e fecero finta di non volergli ne dare. Allora il vecchio si mise a piangere, piangeva tremando ancora più forte, mentre i nipoti ridevano. Finalmente gli dettero la sua parte, una porzione minuscola, e lui, mentre inghiottiva il primo boccone, fece con la bocca un rumore comico, e col collo un movimento simile a quello delle papere, quando ingozzano un boccone troppo grosso. Poi, appena finito, si mise a battere i piedi, perché gliene dessero ancora. Impietosito da quel supplizio di tantalo, compassionevole e ridicolo, implorai per lui, «Via! Dategli ancora un po' di budino!» Simon mi rispose, «No, se alla sua età mangia troppo, può fargli male!» Da qui, meditando su queste parole, o morale, o logica, o saggezza, alla sua età, e così lo privavano del solo piacere che potesse ancora provare, perché preoccupati della sua salute, la sua salute, che poteva farsene quel povero rude, inerte e tremolante! Avevano, come si suol dire, riguardo per il suo futuro. Il suo futuro! Quanti giorni? Dieci? Venti? Cinquanta? Cento? E poi perché? Forse per lui? O per conservare più a lungo, alla famiglia, lo spettacolo di quella impotente ghiottoneria? In questa vita il vecchio non aveva più nulla da fare, nulla! Gli rimaneva un solo desiderio, una sola gioia. Perché non concedergliela, fino a che non ne morisse? Poi, dopo una interminabile partita a carte, salì in camera per coricarmi. Ero triste, triste, triste! e mi misi alla finestra. Non si udiva altro fuori se non un lieve, un dolcissimo e grazioso cinguettio di uccelli sugli alberi, chissà dove. Quegli uccelli dovevano cantare così, nella notte, per cullare le compagnie addormentate sulle uova. E io pensai ai cinque figli del mio povero amico, che certo in quel momento russava accanto alla sua brutta compagna.